Ciao a tutti, come rimorchiare con successo? In questo video voglio spiegarti quali sono le migliori strategie per rimorchiare una donna con successo. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, seguimi su TikTok e ti ricordo di iscriverti anche a tutti i miei canali, anche al nuovissimo canale Esoterismo e Spiritualità con Massimo Taramasco, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ma adesso veniamo al tema, come rimorchiare con successo? Allora, diciamo che ci sono due tipi di approccio per poter rimorchiare. C'è l'approccio a freddo, il cold approach, oppure l'approccio a caldo, il warm approach. Un approccio a freddo è quando, diciamo, apri con una donna, quindi quando interagisci, quando effetti un rimorchio, ma non sei sicuro della risposta che ti darà, perché non hai un approccio a freddo, un approccio molto rapido, non sai, non hai avuto degli indicatori di interesse, non sai se questa donna ti risponderà positivamente o non positivamente. Un approccio a caldo, l'approccio a caldo è diverso perché nell'approccio a caldo tu, diciamo, hai ricevuto degli indicatori di interesse. Cioè, indicatore di interesse nel senso che non è che sei sicuro al 100%, perché come si diceva una volta, sicuro è morto. Però diciamo che è degli indizi che, diciamo, ci sia un interesse da parte sua. Ad esempio, ti può aver guardato negli occhi per un periodo più lungo, può aver dato dei segnali di gradimento, mordicamento delle labbra, linguini. E quindi, diciamo, ci sono tutti i presupposti che possa funzionare. Ovviamente, diciamo che ci sono dei modi per, diciamo, migliorare. Naturalmente, bisognerebbe puntare all'approccio a caldo, warm approach, però in alcuni casi non c'è, diciamo, non c'è modo di farlo. Quindi bisogna anche utilizzare il cold approach, l'approccio a freddo. Quali sono, ad esempio, nell'approccio a freddo le modalità per ottimizzare la possibilità di successo? Beh, la prima cosa è distinguersi in modo positivo. Cioè, se tu comunque fai un approccio a freddo, ma ti dimostri sorridente, ti dimostri, approcci a freddo, dove vedo una donna per la strada, mi piace, faccio un approccio. Quindi devi imparare ad avere un buon body language, una comunicazione, mantenere le contact, guardarla negli occhi, sorridere. Perché se vai lì imbronciato, incazzato, ovviamente essere anche divertente, no? Fare qualche battuta ironica. Utilizzare un approccio che possa spezzare, diciamo così, il modo di pensare. Deve essere anche molto, molto, molto rapido. Frasi anche semplici, il tipo, guarda, scusa se mi avvicino a te in questo momento e in questo modo, però ti ho vista, mi hai veramente colpito tanto, quindi indipendentemente da tutto, voglio presentarmi. Perché nella vita è importante cogliere le occasioni. Cioè, io sono Massimo, se ti fa piacere interagire con me, dimmi come ti chiami. Qualcosa del genere, insomma. Buttata lì in modo molto, molto rapido. L'importante è avere un buon body language, essere sorridente. È ovvio che sicuramente, diciamo così, una comunicazione non verbale fluida fa la differenza. Perché altrimenti, diciamo... E tieni presente questo, che se una donna, anche magari impegnata così, non è proprio super, super innamorata, se tu fai un buon approccio, divertente e interessante, ci sono buone possibilità che questa possa essere interessata a te. Possa essere interessata, diciamo, a conoscerti. Questo è un qualcosa di fondamentale, è un qualcosa di importante. La maggior parte, diciamo, degli uomini non sa fare il giusto eye contact. Invece devi mantenere il giusto contatto oculare. Tra l'altro, diciamo, tieni presente una cosa, che se lei ti guarderà, immediatamente tu puoi capire se il tuo approccio sta andando a buon fine o meno. Nel momento in cui tu l'approcci, la guardi, sorride, magari lei sorride, ride, insomma, o comunque mantiene il contatto, automaticamente ti sta dicendo che è, diciamo, che è interessata. Quindi, questo è molto importante. Ti sta dando già una risposta. Quindi, altra cosa fondamentale da fare nell'approccio a freddo molto rapidamente, cercare di subito fare mirroring, cioè avere una postura un po' simile alla sua. È molto importante questo perché il ricalco eco-posturale ti fa percepire come una persona, diciamo, simile e quindi disinnesca un po' le barriere. È molto importante farlo da subito. È molto importante sorridere. È molto importante mantenere le contact. È molto importante avere un body language sciolto. E se riesci a cogliere tutti i micro segnali, è già importante. Avvicinati. Cerca di violare il più possibile la prossemica. Non da subito, però. Non da subito dopo i primi 3-4 secondi. Altra cosa molto importante è la regola dei 3 secondi. Quando fai l'approccio a freddo non deve passare del tempo. Lei non deve percepirti perché una buona interruzione di schema è tac, appari dal nulla e dici qualche cosa. Se passano più di 3 secondi e lei inizia a osservarti come quello che gira il supermercato, le gira attorno così, vieni preso come un maniaco e non ottieni nessun risultato. Ovvio che nell'approccio a freddo ci possono essere delle situazioni in cui non va, non devi prendertela, no? E questo è un po' come dire, tu devi ottimizzare il tuo approccio, però non sai chi puoi trovare davanti. Magari l'importante è che, diciamo, ti fai percepire come una persona che può essere interessante, una persona piaceva, una persona simpatica, una persona che comunque vale la pena conoscere. Ecco, in questo caso vedrai che ci saranno buone, buone possibilità e poi non deve avere paura, no? In una giornata, se una persona si mette lì, in una giornata può fare anche diversi approcci a freddo, basta andare in un centro commerciale un po' affollato e le opportunità ne hai tantissime ed è un luogo che va benissimo come territorio di caccia, diciamo così. Invece, ci sono gli approcci a caldo, il warm approach. Il warm approach è più funzionale, nel senso che hai più possibilità che vada fine perché hai colto un suo segnale di interesse, che può avvenire in diverse circostanze, può avvenire in diverse situazioni, però hai colto un segnale di interesse. E l'insegnale di interesse può essere, ad esempio, un eye contact. L'eye contact, ad esempio, è un segnale, è un grande segnale di interesse. Oppure, diciamo, una persona che già in qualche modo conosci, con la quale hai interagito, che oltre al segnale all'eye contact, magari ti dà altri segnali di interesse, per dire, in compagnia vuole sedersi vicino a te, insomma, è una persona che già conosci, è una persona che ti hanno presentato i tuoi amici, che ti hanno creato un campo positivo, insomma. Ovviamente, quando ricevi dei segnali di interesse, l'approccio è più facile e a quel punto lì, diciamo, la cosa fondamentale è creare comfort all'inizio, creare attrazione, cercare di, diciamo, creare contatto fisico per far capire che non è che sei un amico, creare subito attrazione, poi creare comfort e poi chiudere con un kiss close, con un bacio fondamentalmente. Questo riesci a farlo anche abbastanza rapidamente, diciamo così. E' ovvio che l'approccio a caldo non devi farti vedere troppo aggressivo, non devi farti vedere troppo interessato al sesso, però devi, diciamo, far accrescere subito le emozioni. Quindi, in questo caso, se lei ha già un interesse e nota, ad esempio, se tu riesci a mettere degli antagonisti, a creare preselezione degli antagonisti, altre donne che ti cercano, aumenterà ancora di più il suo interesse. E quindi potrai, diciamo, nel momento in cui lei ha paura, se non faccio qualcosa, magari lo perdo, ottenere anche qualcosa di più da un punto di vista fisico, perché magari, per non perderti, è disponibile magari a fare delle cose che normalmente non farebbe, come ad esempio a dartela. Ecco, questi sono i due tipi di approcci, diciamo, che puoi utilizzare con una donna. Fatti nel modo giusto, ovviamente nell'approccio a caldo, la vera abilità è sa per collire i segnali, perché se uno non vede niente, non te ne rendi neanche conto. Quindi i segnali sono tutti segnali di gradimento emotivo, accrezzarsi i capelli, toccarsi le labbra, mordicchiarsi le labbra, guardarti negli occhi, voler parlare con te, sei in una situazione di tante persone, magari sedersi vicino a te, insomma, ridere alle tue battute, anche se sono stupide, puoi fare anche delle verifiche analogiche, fai delle battute idiote e vedi se ride, e diciamo che hai un buon, una buona possibilità. Bene, quindi buon rimorchio a tutti, iscriviti al mio canale YouTube, Massimo Terramasco, crescita personale, felicità, benessere, morotosimo, tutti i miei canali, attivando la campanella, così riceverai le notifiche ai nuovi video. Ma iscriviti anche al mio nuovissimo canale, esoterismo e spiritualità con Massimo Terramasco. Ti ricordo che su ogni canale c'è la possibilità di abbonarsi, abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati che sta vicino, tastina iscriviti, e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. Ciao a tutti!